Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, siamo tornati qui con la carriera natura e con l'Inter, come state boys? Buona domenica! Prima di cominciare vi ricordo che domenica prossima, ore 10 e 30, uscirà il video presentazione del progetto di cui vi sto parlando già da qualche giorno. Mi raccomando, seguitemi sui social perché ci saranno delle sorprese lì, Instagram, importantissimo, mi raccomando! Sono contento che abbiate apprezzato, diciamo così, la continuazione di questa carriera che ovviamente non andrà avanti per molto tempo, ci faremo solo un'altra stagione, finiamo il calcio a mercato, poi simuliamo, giocheremo qualche partita, magari le più importanti, però concentriamoci sul calcio a mercato perché, ne abbiamo parlato un po' sotto nei commenti dello scorso video, abbiamo detto Menzo, alcuni giocatori è arrivato il momento, secondo me, secondo me, a parte vostra, di venderli e io sono d'accordo. Cioè, Jeremy Pino, quello che doveva fare, l'ha fatto, si è ripreso dopo le cattive prestazioni contro lo Schalke, adesso arriva una squadra che potrebbe farlo giocare di più di quanto lo facciamo giocare noi e ci offre nel frattempo anche un giocatore molto importante. Allora, però, facciamo le giuste valutazioni, dal punto di vista economico, perché qua c'è scritto che il valore di mercato di Pino oscilla tra i 107 e i 157 milioni, ok? Io potrei venderlo per questa cifra. Lì c'è scritto valore 91 milioni. Questo cosa vuol dire? Che il valore di questo Aris Zwek, 50 milioni, potremmo acquistarlo per, se lo andiamo a acquistare separatamente, 80-70 milioni. Quindi, 70 milioni più questi 30 che ci stanno offrendo, secondo me, è un po' poco per Pino. Io andrei a trattare, ci posso stare, ragazzi. È un regen interessante questo Zwek, l'abbiamo visto poi anche nello scorso episodio, però qua i milioni devono alzarsi. Proviamo 45, non mi sembra di star chiedendo troppi soldi. Ok, va bene, va bene, così ci posso stare già di più, così ci posso stare già di più, sinceramente. Quindi andiamo a trattare per questo Aris Zwek, 1,90 ragazzi, a T1,90. Quindi attenzione perché se lo spostiamo, forse anche da attaccante, può essere interessante. Anche perché agilità 95, accelerazione 92, mamma mia. Cosa vuoi? Turnover, cosa vuoi? Ok. Ignoriamo la clausola e gli andiamo a offrire, giusto per non perdere tempo e non rischiare, 110. Olè, perfetto, signori. Acquisto fatto, almeno per ora. Si deve concretizzare anche il passaggio di Pino al Bayern Monaco. Nel frattempo l'Arsenal ci viene a fare un'offerta per Nico Schlotterbeck. E occhio, ragazzi, perché 24 anni e 84, qui dopo avremo qualche problemuccio con l'Under 23, probabilmente. Nel senso che Destanoglu ci rientra, Garcia ci rientra, Guardiol ci rientra. E dovremmo andare a prendere un altro difensore centrale, effettivamente. Ma difensori, perché anche qui difensori centrali, ragazzi, con dei buoni overall, non è che ce ne siano, bisogna andare anche qua forse su dei regen. Mettiamo subito anche il filtro età. 17-23 anni. E vediamo, secondo me, con dei buoni overall ci sono solamente... i regen, tipo questo D'Angelo. Che sarà il regen di Bo, non lo so. Piellini, adesso noi andremo sicuramente negli altri campionati e troveremo i vari regen di Tiago Silva, per esempio. Eccolo qui, Edoardo Teixeira, 19 anni e 83. Potremmo andare su di lui, ragazzi. Valutiamo anche queste offerte, chi se ne frega. Andiamo, andiamo, andiamo. Schlotterbeck, difensore centrale, 24 anni, 84, valore 42 milioni. Potremmo chiederne fino a un massimo di 72. Vediamo cosa possiamo fare. Ma loro chi hanno? Saliba? Anche Saliba ormai ha un'età alta, mi sa, eh. Vabbè, fanno una bella linea difensiva con Gabriel e Rudiger. Però 70 milioni me li dai tutti, eh. Ok, buono, ragazzi. Ammazza, che eccessioni che stiamo facendo. Pino venduto, ci entrano 42 milioni. Abbiamo delle altre offerte. Il Bergamo Calcio mi offre Ateboer per Skriniar. Va bene. Io dico che voi siete ubriachi. Io dico che voi siete ubriachi. Cioè, per forza. Il Magistre City arriva per Bastoni, offrendoci anche Bernardo Silva. Rifiuto. Nel frattempo è arrivato il nostro Svec. Eccolo qui, ottima promessa con il numero 9. Olè, personalità. Personalità. Andiamo a vedere un secondo però dove possiamo metterlo. Perché? La trequartista, no. Da attaccante. Cosa fa? No. È un AT, ragazzi. È una seconda punta. Stop. Slotterback venduto. Eccolo qua. Arriva l'ufficialità. Ci entrano 66 milioni. A questo punto mi fiondo... Eh, Tapsoba non era male, ma... Non ha l'età. Non ha l'età. Mi fiondo non su D'Angelo, ma bensì su Take Seira. Vai, vai, vai. Ci sto, ci sto, ci sto. Cacchio, è mancino. Tutti mancini, porca miseria. Vabbè, questi hanno visto un film alla radio. Questi hanno visto un film alla radio. Ma secondo loro, ma gli do in asio più dei soldi, capito? Cioè, vogliono in asio più dei soldi. Penso che... A volte io non smetterò mai di sorprendermi. 67 milioni. È vero che li ho, ma... Ho venduto Slotterback a 70. Così ho speso solo una parte dei soldi di Slotterback. È così che si fa il cash, il business, boys. Ok, perfetto. Altro acquisto. Edoardo Take Seira dalla Fiorentina. Terzo colpo. Due difensori per il momento. Più è arrivato un attaccante. Andiamo a mettergli subito un bel pieno di crescita. Al nostro Take Seira. Ho dei bei dati. Olè. Perfetto. Nel frattempo ci avviciniamo alla prima partita, boys. Ma sapete che io quasi quasi me la vado a giocare contro la Juventus? Dai, ci sto. Voi gli imprevisti li vedete? Io non vedo il gioco più. Ok, perfetto. Ora lo vedo. 1.27. 1.27. Rivoluzione. Io non mi ricordo se ho usato il bonus. Non mi interessa. Non mi interessa se ho usato il bonus o meno. Ma in questa stagione si annulla tutto. Mi vado a giocare questa partita contro la Juventus con rivoluzione. Vai. Questo vaffangiro. Vaffangiro! Ci siamo, giusto? È corretto quello che stiamo facendo. È corretto. È caffè corretto. Ci portiamo dietro Phil. Basta. Signori, andiamo in campo. Ci siamo. Sempre sul pezzo. Forza. Inter per questo primo match del campionato di Serie A contro la Juventus. Non so come andrà. Espo. Ugo. C'è l'inserimento di Nico. Servito perfettamente! Scribbio! Ulla, Peppa! Intervento di Onana perfetto. Quello di Garcia un po' meno. Mi ha perso totalmente il giocatore. Ecco Svec. Di Mancino. Bellissima balla per Farias che è troppo, troppo, troppo isolato. E quindi deve temporeggiare. E addirittura chiedere l'aiuto di Cacchierec. Che ritorna da Farias nello stretto. Ugo. 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 Per Svec! Scesni! Addosso gliela ha tirata. Mannaggia. I sandali! Cosa sono pazzi! Ma chi lo ferma? Locatelli? Ugo. 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 Sì. Usiamo Svec per fare le sponde? Mi piace. Espo. Ehm. Gli diamo il rosso, direttore di gara. Glielo diamo. Glielo diamo. Glielo diamo, Nicolò Zagnolo. A casina. Glielo diamo questo rosso. Si scalda la tensione del derby d'Italia. Cacchiere. Farias. Esposito. Svec, madnaia! Bravo cacca! È diventato fortissimo. Svec. Espo. Nico. E che facciamo? Tiriamo? Mannaggia me stesso. Ok. Zaccaria! Eh sì. 1-0 Juventus. In vantaggio. I bianconeri oggi sono in bianco. Sfruttiamo. Cerchiamo di sfruttare l'occasione, ragazzi. Perché non sempre ci capita la Juventus in 10. È vero che su questo gioco quando una squadra finisce in 10, forse è peggio. Però, se giochiamo come sappiamo fare, sarà un vantaggio per noi. Olè. Vai Nico, fino in fondo. Svec al centro. Non mi dà Svec, ragazzi. Non mi dà Svec. Incredibile. Forse adesso si gira. Trova un varco. Farias centrale ancora para Shesny. Ah, ragazzi. Riusciamo a piazzarla sta palla? Si, Nico. È bella sta palla recuperata. Svec. Ottima per Farias. Se ne va Farias. Il controllo è magnifico. E questa volta Shesny almeno fa una bella parata. Cosa ho appena visto? Non lo so. Comunque, finisce quel primo tempo, signore. Io non so se riuscirò a segnare quest'oggi. Proviamo a fare una cosa, va là. Mettiamo Svec prima punta e Farias seconda. Comunque la Juventus gioca molto meglio con un uomo in meno. Che palle quando questa supremazia territoriale non si sente. Però se la facciamo giocare... Girare bene, scusate! Sebastiano! È esposito. Parla già subito i conti. Forza, adesso andiamo a vincerla. Bella, 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 bella. Subito assist per Svec. Mamma mia, cacchiere. Diciottesima palla recuperata quest'oggi. Svec! Tagliela bene! Mamma mia, che intervento di delitto! Una magia! E Inasio! Risponde così. Ci siamo, raga. Hugone, Svec. Punta, prova ad andarsene in dribbling. Una finta, esposito al centro. Farias, attenzione perché si è inserito Svec. Col mancino! La palla arriva a Hugone! Ancora Shesny! Grande parata! Poi Nico Williams. Ci siamo. Mettila bene. Arca miseria, peccato. Niente, la Juventus fa girare il pallone, ragazzi. Non si gioca. Tiki-taka della Juventus per... Per perdere tempo. Va bene. Finisci qui. 1-1, signori. Questa partita, se fosse durata 180 minuti, probabilmente non l'avremmo vinta comunque. Purtroppo il gioco non cambia da un giorno all'altro. Però devo dire che da parte dei nostri non è stata una cattiva partita. Abbiamo concesso veramente poco la Juventus. Abbiamo concesso veramente poco. Di là, se andiamo a vedere i voti, mi sa che... C'è un calcio teo da Juventus che ha preso un voto molto più alto. Shesny, 7,2 con tutte quelle parate. Allora, però, 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 cosa dire? Se noi pensiamo alla nostra primavera, potrebbe mancare qualcosa. Forse un centrocampista un pochettino più sviluppato rispetto a Ugone. Proprio un cicci, proprio un cicci, intendo io, eh? Che mi possa dare uno strappo, che mi possa dare quel qualcosina in più, magari. Mi serve abbastanza giovane, eh? Mi serve abbastanza giovinciello. Vai, andiamo a cercarlo. Edoardo Camavinga. Oh, Gavi? Ma pazzia? Uuuuh! Kokciu! Proprio lui! Proprio lui! Ma proprio Kokciu! Ma proprio lui, ragazzi! Andiamo a cercare anche negli altri campionati, prima di prendere la decisione, ma io cercavo proprio lui. In Italia, Illich. Illich non è male, però non è il tipo di calciatore che cerco. Mamma mia, in serie, ah, che pippaggine, ragazzi! Oh, signori, non ho trovato nient'altro, sinceramente. Quindi io mi tuffo subito su Kokciu. Dovevo non ci penso due volte. Oh, yes! Eccolo qua! Perfetto, pulito, preciso. 1,75 con questi dati. Va benone, va benone dal levante, ma levati dal di lì. Levati dal di lì. Un pochettino più offensivo, però fa benissimo la mezzala, senza problemi. 60 milioni per Orkun, anzi per il levante in realtà. Possiamo chiudere a 72, dai! Crede che ci può stare. Perfetto, ottimo. Però bello turnover, eh. Perfetto! Perfetto! Zero lamentele da parte sua. Ha capito il progetto, ha capito quello che andrà a fare quest'anno. E sono super soddisfatto così. Perfetto, signori. È ufficiale. Kokciu è un nuovo giocatore dell'Inter. Andiamo a dare un bel centrocampista, recupera palloni. Siamo sul pezzo. Ottimo lavoro, cosa ho fatto? Vogliamo solo ringraziarvi il tuo contributo al raggiungimento di uno degli obiettivi del club. Fai in modo di acquistare uno dei migliori giocatori al mondo. Cioè, Kokciu è considerato uno dei migliori giocatori al mondo, ragazzi. Fatte un po' a voi. Vabbè, non ha vinto nessuno la prima giornata di campionato. Solo dei pareggi. Partita spostata. Perché? 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 Ve lo dico io perché, boys. Ecco perché! Red Bull Lipsia, Monaco, Locomotive, Mosca. Questo sarà il nostro girone di Champions. Fattibile. Fattibile. Non so se è fattibile in simulazione. Forse contro il Red Bull Lipsia me la giocherei. Sto attraversando un buon periodo di forma. Contro l'Atalanta. Contro l'Atalanta la andiamo subito a imprevistare. Aspetta, voi la vedete? No. Ma voi l'avete visto quello di prima? Penso di sì. È uscito il 27. È uscito di nuovo il 27, ragazzi. Niente. Allora, però io non ho più tempo per giocarmela. Volevo simularla. Con la rivoluzione ce la giochiamo, ovviamente. Visto che siamo ancora in non in simulazione da calendario. Quindi nel prossimo episodio ci giocheremo la partita contro l'Atalanta con rivoluzione. È andata così, ragazzi. Io interrompo qua il video. Fatemi sapere se secondo voi c'è ancora qualcosina da fare. Dipende poi dalle offerte che ci arrivano. Perché se ci dovesse arrivare un'offerta, non lo so, per chi c'è qua che magari può voler andare via. Pina Monti che è scontento. Oppure Di Marco. Insomma, se dovesse arrivarci qualche offertina, forse noi potremmo continuare ad upgradeare anche la panchina, diciamo. Per il momento noi ci salutiamo qui, signori. Dai, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, puntate la sveglia per quanto riguarda domenica prossima. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto alla mezzata prossima. Ciao a tutti, ragazzi.